Ora ne prendo uno a caso Diciamo Comparsa conclusionale Ho un modello di comparsa Posso usare questo Oppure modificarlo Modificarlo partendo da questo modello Quindi modificarlo come voglio Creare un modello mio proprio A questo punto arrivati qui Basta premere componi atto E l'atto sarà automaticamente Già compilato con tutto quello che ho messo Nelle schede Quindi non ho scritto io Il word Poi convertito in pdf Ho messo tutti i dati All'interno delle varie maschere Operazione che devo comunque fare Obbligatoriamente per predisporre la busta Ho preso un modello Di quelli a disposizione O meglio ancora l'ho modificato rendendolo mio Quindi l'ho personalizzato Così come mi piace Come forma e tutto Dopodiché basta cliccare quel pulsante Componi atto E l'atto è automaticamente già composto E pronto per essere depositato Quando si salva L'atto così composto E qui ho il pulsante salva Poi chiudo Ecco viene generato un documento di tipo quadra Questo documento è esportabile in pdf In word In word E in word dal 2008 Il doc x E al momento in cui Voglio depositare l'atto Quindi pct Depositi Vado a fare Ad associare questo documento A un deposito Il sistema Ora sempre per la linea Ecco Il sistema automaticamente Lo converte in pdf Quindi non devo più nemmeno fare la conversione E' tutto automatico Io prendo questo atto Lo allego Viene automaticamente convertito in pdf Ed allegato al fascicolo E' una funzione sulla quale Non ho perso tempo prima Perché è nuova Diciamo l'abbiamo messa in linea In realtà la stiamo un po' Tenendo d'occhio Stiamo vedendo come ci si muovono sui professionisti Per valutare se modificarlo Ok devo dire che fino adesso Sta funzionando molto bene E' estremamente comoda Senz'altro Perché è tutto automatico Compilo le schede L'atto è automaticamente compilato Sicuramente migliorabile Nei modelli che forniamo di default Però c'è il discorso Che l'avvocato può crearsi Un suo modello personalizzato Quindi una volta fatto un modello Decreto ingiuntivo Comparsa conclusionale Piuttosto che Istanza di vendita eccetera Non devo più scrivere atti Ho sempre quel modello Viene automaticamente compilato E il lavoro Sicuramente è estremamente più veloce Nella parte telematica È un'applicazione web questa Quindi gira su tutti i sistemi operativi Tutti Voglio dire Windows E Come? Windows tutti Mac Tutti Tutti I nuovi intendo Certo dell'86 no Nemmeno Windows Sui nuovi sistemi operativi Intendo dire Dal 2000 O che è un Mac? Oddio Non mi ricordo le sigle dei Mac Ma Da Almeno Quattro anni fa Almeno quattro anni fa Sì Sì Dieci in poi Sì Le darei una risposta sbagliata Le do certezza Da dieci in su Tranne per le funzioni Di firma digitale Quando si va ad apporre La firma digitale Apponendola Dall'esterno Non c'è nessun problema Quindi caricando file Già firmati Quando invece Si firma utilizzando Quadra Come abbiamo fatto adesso A un certo punto Viene chiesto Proprio nell'applicazione Di firma Se Continuare Con Quadra Oppure firmare manualmente Con Mac Bisogna scegliere Quella opzione Firma manualmente Si appone la firma Al file E si ricarica E' tutta una procedura Automatica Anche quella E questa è l'unica distinzione Tra Mac e Windows Ah sì Però quello riguarda I dispositivi Proprio Non c'entra nulla Con Quadra Tutte le firme digitali Su Mac Non possono essere Né rinnovate Né attivate Al primo utilizzo Sono due procedure Che vanno fatte Su Windows Dopodiché Si usano tranquillamente Su Mac A patto che Al momento Della richiesta Del dispositivo Sia stato specificato Che da utilizzare Su Mac Perché noi Alla generazione Ci mettiamo dentro Un software Che funziona Su Mac Dica Dica Assolutamente no Siam Siam è un'altra cosa Questo riguarda Quadra è civile Civile Siam è un altro programma Sidi Altro programma ancora Dimmi Siamo Sì Dimmi Ti alzi perché altrimenti non lo sento Sì io Adesso sto utilizzando Firefox Ma utilizzo anche Anzi di solito io utilizzo Explorer Quello che sta sul pc È possibile basta aprire la chiavetta Quindi il pannello di gestione della chiavetta Andare su impostazioni E installare questo programma Utilizza la business key con le applicazioni Del tuo pc Anche il titolo è chiaro Si va ok, si va sempre avanti Si riavvia il pc E a quel punto si possono utilizzare altri navigatori Ci sono altre domande? Dimmi Sì ma fuori dal PCT Firma digitale Se te lo chiedono perché L'istanza di ammissione al passivo Prevede solo l'invio Pec al curatore La legge non parla Di firma digitale Sull'atto Di Sull'istanza di insinuazione al passivo A modena si So che c'è qualche tribunale Che forzando la norma Lo chiede firmato digitalmente Ma la norma dice Inviato a mezzo Pec Al curatore Non parla di firma digitale A meno che non siano tribunali Con già attivo il PCT fallimentare Se non ci sono altre domande Vi ringrazio per la partecipazione E chiudiamo Altrimenti la Camera di Commercio Ci fa pulire la sala dopo Grazie e buona serata